Prego consigliere, per tre minuti ne ha facoltà. Allora, spiace ricordare purtroppo che in Regione non c'è stata questa attenzione e speriamo che venga colmata al più presto. Tra l'altro il marchio slot free, da quello che sappiamo, è usato da pochissimi commercianti. Il numero verde regionale non è stato mai attivato e quella che era una delibera del 2013 sulla ludopatia risulta decisamente poco applicata, anche considerando che era stato stanziato un milione e mezzo di euro per la sua puntuale applicazione. Quindi speriamo che questo ordine del giorno sappia ristabilire quella che è la corretta tutela della salute dei cittadini romani e speriamo anche del Lazio. Grazie.